Ciao a tutti amici, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Cinemando, il programma di informazione cinematografica della Capitanata dove si discute di tutti i migliori film in uscita, della programmazione dei film nelle sale di Foggia e Provincia e tanto altro ancora, ospiti, gossip, informazioni e curiosità su tutto ciò che è il mondo del cinema Allora vi aspetto tutti i weekend, repliche comprese, con Cinemando Dunque avete capito, l'unico programma sul cinema è solo... Eh, se lo dicono ad ora